ben tornati ciao per il bentornati si stanno imbarcando si destinazione finale calcutta destinazione intermedia dubai ci imbarchiamo eccoci arrivati a calcutta siamo qui da poche ore in realtà e diciamo che un po il viaggio e il fuso si stanno facendo sentire siamo appena arrivate arrivati alla casa delle missionari della carità c'è la casa di madre teresa di calcutta allora buongiorno ragazzi sono le 5 del mattino e stiamo al primo giorno ufficiale diciamo in india ieri siamo arrivati e abbiamo guardato un po attorno ma poi siamo letteralmente crollati perché viaggio per arrivare qui è lungo quindi adesso sono le ripeto verso le 5 del mattino e stiamo per andare alle 6 alla casa madre delle suore di madre teresa lì non si può filmare lì non si può filmare e dentro ovviamente quindi magari vi facciamo vedere un po il contesto in cui siamo ci sono i monsoni sappiate che se venite a luglio in india più o meno in tutta l'india ci sono monsoni quindi piogge torrenziali e fa molto molto caldo molto umido diciamo che da domani magari possiamo vloggare un pochino di più però oggi vogliamo rispettare anche il posto dove siamo l'esperienza che stiamo vivendo noi faremo una giornata completamente a disposizione loro quindi non ci vedremo tanto ma vi aggiorniamo quando possiamo eccoci qui pur essendo tipo le sei del mattino neanche c'è un caldo che si muore è un'affa è una pioggia non so se la vedete benvenuti a calcutta ragazzi cosa utilissima per la stagione dei monsoni è un kway largo così se avete uno zaino mettete sotto pure quello prime impressioni fresco e soleggiato devo dire anche pulito si diciamo che calcutta tra le città che ho visto al momento è la più sporca in assoluto andiamo di qua c'è chi l'aveva definita una latrina a cielo aperto e si diciamo che concordo ecco siamo quasi arrivati se le telecamere potessero riprendere gli odori credo che rimarreste abbastanza sconvolti cosa dici se proviamo a passare ricordatevi sempre che in india è come in inghilterra tutto all'incontrario le strade quindi controllate controllate due volte prima di attraversare la strada la casa madre di madre teresa è dove c'è la tomba di madre teresa dove ci sono diciamo anche c'è un piccolo museo dove avviene la formazione delle suore delle missionari della carità ve la faccio vedere e ve la trovate davanti proprio così eccola siamo nella sala dei volontari dove le suore dopo la messa delle sei danno una colazione e poi si viene smistati sempre sulla stessa strada dove si trova la casa madre e dove c'è anche la tomba di madre Teresa c'è Shishu Baban il famoso orfanotrofio dove sono ospitati tantissimi bambini e che è una delle prime cose che madre Teresa ha fondato qui e che è un po' di più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti